L'ingresso della mostra di Corrado Cagli, Folgorazioni, Mutazioni, una mostra retrospettiva antologica che annovera ben 200 opere dell'artista che vanno dalla pittura degli anni 30 al disegno, alla scultura, alle opere che riguardano il teatro, scenografia, costumistica, gli arazzi. C'è tutto il repertorio più importante nei cicli maggiori dell'arte di Corrado Cagli. In questa sala sono stati raccolti i lavori a partire dal 1932, momento in cui Cagli dichiara che ai pittori è necessario fornire i muri. Quindi sottolinea l'importanza della pittura murale, questo lo fa attraverso un contributo proprio alla rivista di Massimo Bontempelli in quegli anni e in qualche modo anticipa addirittura la grande azione poi successiva di Sironi. Quindi è un giovane precoce, ha poco più di 20 anni e qui appunto affronta i maggiori argomenti del primordio cosiddetto. Il primordio è una poetica che Cagli stesso introduce in quegli anni e riguarda il concetto di storia. La storia non va letta solamente a ritroso, la storia deve essere attualizzata, secondo Cagli, deve essere inserita nella vita e nel presente poetica che appunto lo avvicina allo stesso Massimo Bontempelli che peraltro era uno degli letterati più illustri dell'epoca e anche suo zio, quindi zio materno. Professore, la interrompo un attimo per un particolare. Cagli forse straordinariamente nella scena della pittura italiana del Novecento percorre tutti gli stili, ne esplora dall'astrattismo al figurativo. Come si esplicita la sua arte? Beh, guardi, su questo abbiamo un chiarimento che lui stesso porta nel dibattito, da un contributo notevole dal punto di vista teorico. Lui spiega che in un articolo appunto sulla rivista di Massimo Bontempelli, nel 1933, spiega che gli artisti si dividono in due categorie, i monologici e quelli invece che praticano più di una logica, almeno due logiche sono necessarie. E dunque le due logiche sono appunto esprimersi sia con la figurazione che con l'astrazione, indifferentemente. E questo in Cagli, diciamo, è come se recuperasse un po' la stessa tradizione della letteratura, nella quale si può fare una poesia epica, si può fare una poesia lirica, un sonetto, ci sono molti generi. Cagli non è che abbia percorso tutti gli stili, Cagli è semplicemente un uomo, un artista, diciamo, estremamente dotato e anche curioso, uno sperimentatore e quindi liberamente, come artista libero, si è cimentato in molte modalità che appunto in qualche modo gli hanno quasi procurato questa accusa, come dire, di essere eclettico. Ma non era eclettico, Cagli era un uomo dotato, un artista dotato. Chiarito questo, diciamo, è certamente un protagonista centrale della scena perché sia attraverso, diciamo, il dibattito che c'era in quel momento tra realisti e figurativi, sia quello tra astrazione e figurazione, Cagli, diciamo, taglia il nodo gordiano, in realtà fa capire che l'artista deve essere multiforme, deve essere libero e quindi in qualche modo, diciamo, fa saltare anche questo steccato tra i due generi.